Buongiorno a tutti, sono Umberto Collini, sono comproprietario con le mie sorelle dello Shelle Larix, questa nuova struttura che abbiamo recuperato da un vecchio edificio che abbiamo acquistato per la famiglia nel 2021. Inizialmente si pensava di fare una ristrutturazione parziale, poi parlando con i nostri tecnici abbiamo preferito fare una cosa più radicale. Aiutati dall'architetto Bosetti Fabrizio di Sonorezzo in Banale, che ha capito le nostre esigenze e quello che volevamo fare, siamo riusciti a eseguire poi un progetto con un risultato finale soddisfacente, insomma molto molto bello secondo noi. Abbiamo dato molta importanza al tipo di costruzione, volevamo farla un po' più moderna, con dei seramenti molto molto importanti, molto ampi, per dar luce agli appartamenti, mantenendo comunque una caratteristica di casa da montagna. L'edificio si compone di nove unità abitative, di varie metrature, sono quasi tutte con le due stanze a letto, la zona giorno e il bagno, ci sono tre unità con una stanza a letto su giorno cucina e bagno, questo per venire incontro a diverse esigenze dei potenziali clienti. La metratura degli appartamenti va dai 55-60 ai 75 metri quadrati, tutte le unità sono dotate di cantina, di post auto coperto, la casa è collegata con fibra, quindi è internet, dentro le unità sono arrendate in modo semplice, proprio per l'esigenza di comodità delle pulizie, grazie all'intervento di Paolo Perli, che ci ha consigliato di fare un po' di domotica, che rendeva molto più comodo e veloce l'accesso ai clienti con i codici senza dover utilizzare il classico sistema di chiavi e gestire a distanza anche il riscaldamento, ci ha permesso di gestire al meglio la struttura senza il bisogno di essere costantemente in casa. Un'altra delle nostre richieste che abbiamo fatto a Paolo era quella di avere un sistema un po' automatizzato per la gestione degli accessi, la gestione del riscaldamento, la gestione dell'apertura delle finestre e quindi con l'impianto domotico Connex siamo riusciti a raggiungere un ottimo risultato, ci permette da remoto di avere accesso alla struttura e quindi non essere obbligati a stare sempre qua sul posto e quindi siamo molto contenti del risultato ottenuto.